Ciao ragazzi, sono Nicola e oggi siamo in un nuovo video Allora, non sono riuscito a fare video perchè non c'era wifi non c'era niente, quindi non si caricava il video non si caricava il video Allora ragazzi, oggi questo video lo farò un po' corto perchè si sta scaricando il telefono, quindi è a uno quindi lo farò abbastanza corto vi parlerò di una roba cosa c'è qui dentro cosa c'è qui dentro una cazzata in verità, non è una cazzata apriamo subito una seccatorietta dei segreti fidget spinner gira velocissimo cosa qua le ho fatte girare perchè il record è 3 minuti di questa visto io lo tengo sempre fatti in scarletta perchè anche il mio fratello è uguale quindi non vorrei farlo confondere quindi lo metterò allora chiuso e lo metto allora questo video finisce qua mettete like iscrivetevi al canale ciao 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 Grazie a tutti.